Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione su Arezzo TV. In apertura alla cronaca, un arresto per furto e uno per attentata a rapina è il bilancio dei carabinieri di Arezzo nei primi giorni di questo mese di agosto. Nel primo caso, un uomo di 43 anni è stato sorpreso dai militari subito dopo il furto in un'auto in sosta. I carabinieri lo hanno fermato e arrestato, restituendo il borsello rubato al legittimo proprietario. In manette poi anche una 62N che all'interno di un supermercato ha tentato di allontanarsi con la merce trafugata e nascosta negli indumenti. All'uscita però un vigilante lo ha notato ed è scoppiato un tafferuglio. Per l'uomo è scattato l'arresto con l'accusa di tentata rapida impropria e è stato messo agli arresti domiciliari. Un ciclista di 50 anni invece è stato travolto da tre cinghiali mentre pedalava con la sua bici al vallico della focia a Castiglion Fiorentino. Ha riportato la frattura del femore e sarà operato, dovrà fare poi almeno un mese di riabilitazione. La strada dove è avvenuto l'incidente peraltro è la stessa dove normalmente si allena anche il CT della Nazionale Azzurra di Ciclismo Bennati. È il secondo incidente causato dai cinghiali in questa zona dell'aretino a ciclisti in una passeggiata nel giro di pochi giorni. Da qui la denuncia dell'Associazione Ciclisti di Castiglion Fiorentino. Dobbiamo fare qualcosa per risolvere il problema, la situazione è diventata pericolosa, le autorità competenti devono fare qualcosa prima che ci scappi la tragedia, ha dichiarato il presidente Roberto Mancini. E adesso invece torniamo a parlare degli odori molesti segnalati da varie parti della città. qualcosa infatti adesso si sta muovendo. L'Ato ha comunicato di aver ricevuto la richiesta di Aisa per la riduzione del conferimento all'impianto di San Zeno. Abbiamo dato indicazioni per venire incontro alle richieste di Aisa. Ad affermarlo Enzo Tacconi, direttore dell'Ato Toscana Sud, intervistato da Rezzo Notizie, che conferma di aver ricevuto la richiesta di Aisa di ridurre il conferimento dell'organico. Il tutto in merito alla vicenda degli odori molesti nella zona sud di Arezzo. I cittadini hanno effettuato segnalazioni quotidiane e non sono mancati i sopralluoghi di giorno e di notte. L'ultimo tra giovedì e venerdì per una richiesta di intervento partita da un'abitazione di San Zeno. Così Aisa il 22 di luglio ha fatto partire la richiesta di diminuire le quantità in arrivo all'impianto. Abbiamo ricevuto questa richiesta conferma Tacconi, ci siamo attivati con Sei Toscana e con altri impianti per capire come poter eventualmente andare incontro a questa esigenza, rivedendo la nostra programmazione. Ovviamente precisa, è un'attività in itinere che avviene gradualmente. Tacconi, però sempre dalle colonne di Arezzo Notizie, è piuttosto sicuro del fatto che la diminuzione del conferimento non potrà raggiungere percentuali alte. Non c'è da sperare insomma che possano aggirarsi attorno al 50%, percentuale invece auspicata dai cittadini per avere una sensibile diminuzione dei cattivi odori. E sul tema è stato chiesto ed ottenuto dalle opposizioni un consiglio comunale aperto. Questi cittadini hanno segnalato in maniera evidente il loro disagio ormai da un anno, sono tantissimi, ci sono state già assemblee pubbliche, ora il consiglio comunale serve a dare loro voce, quindi serve a dare loro la possibilità di intervenire e manifestare il disagio agli amministratori che hanno sempre fatto fatica ad andare in loco. Lo avevano chiesto le forze politiche di minoranza per affrontare il problema dei cattivi odori. Adesso il consiglio comunale aperto si farà e c'è anche una data, quella del 21 settembre. Per la sede invece non è stata accettata la proposta del centro di aggregazione di Chiani si farà quindi ma nella sua veste ufficiale a Palazzo Cavallo. Possiamo in qualche modo costringere gli amministratori ad ascoltare coloro che stanno soffrendo disagio ormai da circa un anno e forse impegnarsi un po' di più di quanto è stato fatto fino ad oggi per superare questi disagi, soprattutto capire se sono aziende pubbliche che stanno producendo il disagio anche se in qualche modo l'ammissione c'era già stata. Nel frattempo AISA Impianti ha già fatto partire la richiesta di diminuire le quantità di organico in arrivo all'impianto di San Zeno. Anche in questo caso è un po' un'ammissione di responsabilità, si ritiene che a questo punto i cattivi odori derivino appunto da un impianto di San Zeno e quindi dal compostaggio e quindi una serie di processi che forse sono stati pensati non in maniera corretta o quantomeno oggi ci siamo accorti che quel tipo di operazioni impatta anche sul territorio circostante quindi forse è bene che se ne facciano carico altri territori della Toscana e non solo il comune di Arezzo. Un altro tema che in questi giorni ha sollevato numerose polemiche è quello dell'accoglienza dei migranti e adesso interviene il vice sindaco di Arezzo, Lucia Tanti. In questo momento quello che dobbiamo fare, tutti lo abbiamo capito, è stringersi attorno alla prefettura e cercare di dare risposte concrete che facciano fronte ad un'emergenza umanitaria perché tale è, ha dichiarato il vice sindaco, ma il punto non è solo l'accoglienza prosegue quanto velocizzare rimpatri e una vera solidarietà europea. Tanti infine aggiunge che nell'elenco dei gestori non c'è la fraternità che ha solo accordato una disponibilità straordinaria ed irripetibile per far fronte ad un'emergenza, ma la vicenda conclude, finisce qui. E adesso voltiamo pagina. La Regione Toscana ha confermato anche per il prossimo anno scolastico il pacchetto scuola, un sostegno economico a favore delle studentesse e degli studenti che frequentano la scuola secondaria e appartengono a famiglie a basso reddito per affrontare le spese necessarie alla frequenza, l'acquisto di libri, materiale didattico di vario tipo ed altri servizi scolastici. In tutta disposizione 6 milioni di euro. La scadenza dei termini per presentare la domanda è fissata per il prossimo 22 settembre su tutto il territorio toscano. E parliamo ancora di giovani, infatti la vescovo di Arezzo Andrea Migliavacca a raccontare da Lisbona la 37esima edizione della giornata mondiale della gioventù. È un insieme di belle testimonianze, sono belle testimonianze quelle che abbiamo ascoltato nelle varie celebrazioni, anche alla festa degli italiani e poi il giorno di accoglienza del Papa e soprattutto ieri durante la via Crucis. È il vescovo di Arezzo Don Andrea, come preferisce che lo si chiami, a raccontarci da Lisbona tutta la gioia dei giovani della diocesi a retina, protagonisti della 37esima edizione della giornata mondiale della gioventù, meglio nota come GMG. Sei giorni di incontri, eventi per migliaia di giovani arrivati a Lisbona da ogni parte del mondo e almeno 6 mila famiglie che si sono messe a disposizione dell'evento in tutta la città. Belle testimonianze, io le vedo tra i nostri giovani, quelli della nostra diocesi. Hanno partecipato davvero in modo intenso, allegro, con spirito giovanile ma anche con partecipazione vera di fede e di cammino che stanno vivendo. Quindi io raccolgo una bella testimonianza dei nostri giovani ed è un segno grande di speranza, anche tornando a casa per noi, le nostre parrocchie, le nostre famiglie. E poi mi ha colpito la forza del Papa, si vede che accoglie e riceve entusiasmo da questi giovani e che ha voglia di portare e di raccontare a loro in modo semplice la bellezza di vivere il Vangelo. E anche questa testimonianza di Papa Francesco arriva al cuore di tutti, arriva al cuore dei giovani. Tra poche ore Don Andrea sarà di nuovo ad Arezzo per celebrare il suo patrono, San Donato. Sì, io partirò, tornerò domani sera con un volo da Lisbona, proprio tornando apposta per la festa di San Donato, la mia prima occasione di vivere questa festa in diocesi. E vivere la festa di San Donato Vescovo è un tornare non solo alle radici, ma alla sorgente della fede. A chi ce l'ha portata come annuncio? E questo ci ricorda che la fede è sempre un dono e che noi, anche come diocesi, oggi la manteniamo, la teniamo viva se la accogliamo come dono e se la testimoniamo come dono per gli altri. Allora sia questa festa di San Donato per la nostra diocesi, un nuovo impulso all'annuncio del Vangelo e a esserne testimoni. Tra poche ore Don Andrea dunque sarà di nuovo ad Arezzo per celebrare San Donato e tutta la città è pronta a festeggiare il suo santo patrono. Vediamo il programma. Arezzo è pronta a festeggiare il suo santo patrono. Il 7 agosto San Donato sarà celebrato con i consueti riti religiosi e della tradizione popolare. San Donato fu il secondo vescovo di Arezzo, secondo la tradizione morì martire, decapitato il 7 agosto 362. Nell'arte è rappresentato in vesti vescovili e con gli attributi del drago da lui combattuto e del calice di vetro, in riferimento al miracolo avvenuto durante la celebrazione della Santa Messa. Nel momento della comunione fecero irruzione in chiesa alcuni pagani che gettarono a terra il calice frantumandolo. Donato, dopo aver pregato, raccolse i frammenti del calice e lo ricompose. Pur mancando un pezzo del fondo, il vescovo continuò a servire il vino consacrato ai fedeli senza che neppure una goccia cadesse a terra. Tante le iniziative alla vigilia il 6 di agosto. Intanto il percorso espositivo ai colori della giostra che sarà ad ingresso gratuito aperto già dalle 14 fino alle 21.30. Poi alle 21.15 in Duomo la consueta cerimonia dell'offerta dei ceri, alla presenza delle rappresentative dei quattro quartieri della giostra del Saracino e tante altre realtà del nostro territorio. A seguire alle 23 tutti con il naso all'insù per lo spettacolo pirotecnico dalla Fortezza Medicea a cura della Fondazione Arezzo in Tour. Ad Arezzo riparte anche Pronto Badante, progetto che offre un aiuto rivolto alle persone oltre a 65 anni residenti in Toscana che si trovano per la prima volta ad affrontare una situazione di fragilità o disagio. Vediamo di cosa si tratta nel servizio di Greta Settimelli. L'estate spesso e volentieri è sinonimo di problemi per chi ha a che fare con l'assistenza agli anziani in ambito domiciliare. Il diritto alle ferie delle badanti diventano un vero e proprio incubo per chi deve sostituire questa figura così importante e delicata nella vita di una persona anziana non autosufficiente. A sollevare il problema è stato ANAP con Fartigianato. Le istituzioni più di tanto credo che non possano fare perché non ci sono, perché quelle poche che ci sono magari vanno, anche loro hanno diritto ad avere le ferie, anche loro hanno diritto di tornare un attimo, di prendere un attimo di riposo e quindi purtroppo la situazione non è bella. Sul fronte dell'assistenza agli anziani insomma c'è ancora molto da fare. Intanto dalla regione toscana arriva la notizia della ripartenza di Pronto Badante, il progetto che offre un aiuto rivolto alle persone ultra 65 anni residenti in Toscana che si trovano per la prima volta ad affrontare una situazione di disagio, di fragilità e non hanno ancora un progetto di assistenza personalizzato. Per la zona distretto Aretina è la cooperativa sociale Progetto 5, il partner del terzo settore a cui è stato affidato il servizio tramite la sottoscrizione di una convenzione triennale. C'è un numero unico regionale da poter comporre, lo 055 43 83 000. Inizialmente si potrà usufruire di una erogazione di 300 euro per un massimo di 30 ore coperte. La sensazione però è che la soluzione sia ancora lontana. Quello su cui forse non è mai stato messo le mani è il fatto che da una parte c'è la mancanza di lavoro, dall'altra però in un settore come questo, l'assistenza agli anziani in generale, forse non si fa abbastanza anche sotto il profilo della formazione perché magari si potrebbe incrociare più la domanda e l'offerta. Sicuramente la formazione è un momento importante nella vita dei lavoratori ma in questo caso io credo che più che la formazione, che sicuramente serve come dicevo, però ci vuole tanta buona volontà e tanta disponibilità per approcciare con le persone anziane. Le persone anziane in genere sono considerate un po' noiose, ma non è così, sono buone, soltanto che l'età e gli acciacchi li portano forse a lamentarsi un pochino di più rispetto al solito, però bisogna avere tanta pazienza e la gente con la pazienza non si trova. Si avvicina comunque il settembre la ripartenza del lavoro, anche dell'agenda del governo, come sindacato pensionati cosa vi aspettate? Noi tanto ci aspettiamo tanto da questa nuova legge sulla non autosufficienza, tant'è che noi a metà settembre faremo un convegno ad Arezzo dove sicuramente ci ha promesso che verrà il viceministro Maria Teresa Bellucci a parlarci della legge sulla non autosufficienza, quindi quello in modo particolare. Poi altri problemi importanti sono le pensioni che influiscono veramente molto sulla vita degli anziani e delle persone in genere, perché se la vita aumenta e le pensioni non aumentano diventa difficoltoso. Una storia emozionante adesso, quella di Alfredo Di Mattia, centenario che per tutta la vita ha svolto l'attività di Sarto a Subbiano. La prima volta che mise piede nell'Arettino infatti lo fece a seguito degli alleati nel 1943. Partito dalla sua Sicilia appena ventenne, arrivò a Pieve San Giovanni. Dopo varie vicissitudini che lo portarono a centinaia di chilometri di distanza, decise poi di tornare e rimanere qui per sempre. E ieri ha spento 100 candeline in tanti della comunità di Subbiano lo hanno festeggiato. E adesso torniamo in città dove, come ogni primo fine settimana della mese, è tornata la Fiera Antiquaria quest'anno, animata da tanti turisti. Très jolie, très très jolie. Do you like Fiera Antiquaria? Certo. Incuriositi dalle rarità in esposizione a caccia di pezzi di antichità, modernariato e vintage, è la Fiera Antiquaria di Arezzo ad incantare tanti turisti stranieri a passeggio per le vie del centro storico. Cosa cercano i turisti? Ma in generale è un po' tutto. Arredamento, insomma. Niente di straordinario, però. Sono loro che stanno mantenendo la Fiera. Però non è come quell'altro evento che il turista magari spende, c'è un pochino più di riserva. Curiosito più che la ricerca riguarda? Curiosito, sì. Curiosito, sì. Viene, guarda, ma si fede. In Piazza Grande e nelle vie del centro storico cittadino una grande varietà di oggetti d'arte, mobili, gioielli, orologi, libri, stampe antiche e chi più ne ha più ne metta. Frequentata oggi, anche visto che il tempo mi sembrava abbastanza buono, nonostante quel pochino di pioggerellina, però sì, scorre bene. Non è proprio l'Arezzo che conosciamo, però, insomma, oggi si è difesa, dai. Un'edizione, quella di agosto, quindi nel pieno dell'estate, quest'anno con numeri importanti, 200 gli operatori arrivati in città. Essendo un mese che tanti titolari non vengono, ora vengono tante persone che sono spugniste e allora probabilmente perché trovano posti vuoti, cioè i posti vuoti ce ne sono veramente giocati. Rispetto agli altri mercati, sì, secondo me rimane sempre quelli più frequentati, ecco perché noi fino ad ora abbiamo fatto anche altri mercati, nel mese di agosto abbiamo visto una differenza notevole, insomma, e quindi sì, diciamo che siamo contenti. Questa sera dopo il TG alle 21 andrà in onda l'integrale della scorrida andata in scena lo scorso sabato a Quarata. Tra gli ospiti anche Santino Cherubini, il mitico Penna. Vediamo un piccolo estratto. Che è successo Francesco? Che è successo? Che fate un piastro che non si sa? Io c'ho la mia donna che mi dorme da tre giorni a casa. Che si fa qui? Era strano che potessimo andare in cici almeno per un po'. Ma è giusto, ma dovete abbassare un pochino che tutta la sera che aveva fatto quell'ireca boom 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 boom. Aspetta perché se no questo è macello. Io tutto il giorno ho scaricato un'altra quinta di legge, avevano il diritto di risposta. Sì, certo che sì. Però allora... Abbiamo un problema, questo è evidente. Fosse uno solo un problema. Facciamo una cosa, dato che lei è qua e mi sembra che abbia qualcosa da recriminare... Vengaci un attimo, salga un attimo. Che vuole recriminare, qui sarebbe bene che fino ad ora c'è stata pace a Quarata. Per due anni ce l'ho dato il Covid. Ora di colpa è tornata la gente. Ma state a casa un pochino. Scusi? La gente dice che la sera fa che esce, fa che? Ma non siete stracchi? Giunta gente che non ha fatto una sega. Passiamo alla pagina dello sport. La rosa dell'Arezzo Calcio Femminile è sempre più definita e numerosa. È stato infatti raggiunto l'accordo con la calciatrice Carolina Paganini e con Ginevra Costantino per il rinnovo dell'accordo con la formazione Amaranto sino al giugno 2024. Contestualmente l'Arezzo Calcio Femminile accoglie squadra la calciatrice Simona Zito. Difensore classe 1996 originaria di Palermo. È cresciuta calcisticamente nella squadra della sua città. Col Rosanero ha militato in Serie C ed è stata protagonista della promozione in Serie B. Nella passata stagione invece ha vestito la squadra, la maglia della Zammarino in Serie B. Questa per stasera era l'ultima notizia. Vi ringrazio per l'attenzione. Arrivederci. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille.